Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di LeonTrip, bentornati in un nuovo episodio di Final Fantasy VII Remake, siamo ancora qui con il nostro Cloud per continuare la nostra avventura. Incazzosa, non è incazzosa questa, insomma, abbastanza. Siamo, dove cazzo siamo qua? Allo scalo di smistamento 2, zona C. E credo che questa sia l'unica strada, quindi dovremmo andare su questa scala. Ah, siamo al cimitero dei treni. Ah, ok. Passeremo dove c'è luce, la luce, la luce. Vabbè? Vabbè? Dove c'è l'unica? Un fantasma? Un fantasma? No, mai troviamo il suo modo di tornare a casa di nuovo. È certo? Dico, non è come se credo sia vero o qualcosa, ma sai, è solo... Allora, riusciremo. Va bene Sui fantasmi ragazzi Di che fantasmi parliamo Fantasmi? No, non ci sono fattati, c'è raccomandato Forse quando non sono alla luce vengono fuori sti cosi E ci starebbe Uh, casse Vedi, sempre a scassarle Ma poi ci facevano sul treno le casse, non lo so E qua, in giro Aspettate ragazzi che mi guardo sempre un po' intorno Non si sa mai Vedete che continuano a dare le medaglie moguri Moguori Moguri L'asta di Mitril What? L'asta di Mitril Adesso abbiamo l'asta magica Aspettate le maghe delle fiabe Realizzate in metallo Dai poteri soprannaturali Mette un raggio in linea retta E aumenta il bonus di danno Su il nemico estremato Perdetto raggiante Un raggio in linea retta Ci la proviamo raga Però non adesso E la proveremo quando Ho fatto la maestria nell'arma Scusa ma l'arma di Cloud? No Scusatemi Ma dove cazzo Di qua? Perché qua sono andato solo per prendere l'arma Pavorabile No Perché qua non si passa Qua non si passa Ah Vedete che mi sto dimenticando questa Eeeh Certo Aspetta un attimo Ma che cazzo Parola Cioè Se io devo andare là E' l'unico passaggio fattibile Questo Ma come cavolo No Questo Quindi come Da dove No Non c'è solo questo Cioè c'è anche questo Tipo Giusto? No Eeeh Di qua allora? No Eeeh Houston Abbiamo un problema di Che non so dove andare Vabbè Ma la La zona che dobbiamo raggiungere è questa E fin qua ci siamo Ma qua è tutto chiuso Andiamo a vedere una roba Io non vedo Passaggi di sorta Qua No Forse il treno Devo dentro il treno No 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 Aspetta Invece Potrebbe essere No 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 Possiamo interruttare qualcosa Invece no E qua E qua non si passa Cioè Cosa è una leva Questa Uno scambio Qua non si può salire Eeeh Ho capito Ma Cioè Nel senso Cloud Vuoi salire Ste scale Un po' Cosa per terra No L'avvento principale dove c'è luce Eeeh C'è Sì Ok Però No Lui mi dice Vai qua Ok Ho sempre questi qua Aspetta Ma che cazzo Ma chi l'aveva vista Questa Ok Andiamo dall'altro lato Adesso Sì Mica l'avevo vista Quella scala Ok Bene 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 Cos'è Cosa Non vedo La camera è bloccata qua Tutti stanno guardando quella porta Jason Sei tu Eeeh Non aprite quella porta Ma perché deve camminare così Ci sono le casse là Io le voglio rompere Più forte di me Più forte di me Le devo rompere Aspetta Non si può Si può non fare niente Si può anche attaccare Ma sono solo queste Allora Passiamo A lei Mi serve la maestria Di Come si chiama Speramento magico Non è che le rompa proprio Abilità dell'arma presa Ok 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 Moment Una bambina che rideva No no ho sentito una bambina che rideva No ho sentito una bambina che rideva Lei c'ho volume basso io raga Visto che abbiamo preso l'abilità dell'arma Ma io direi che adesso Ad a rate Possiamo Usare l'asta di mitril Così vediamo anche l'abilità che ha Quest'asta Asta di mitril Se Contengo le materie dell'arma originale Vediamo Allora Ah Ah ok Vai Cloud Appiattisciti Appiattisci Diventa piatto come Cassandra Inumiditemi Inumiditemi Va bene Passare no Un guffetto Ok Andiamo a vedere lei Dai Bella questa cosa così A rotta Abilità Ah verdetto raggiante Due ne servono Proviamo Vedete raggiante E mette un raggio in linea retta E mette il bonus di danno Se il nemico è stremato Vabbè proviamo Fa vola anche Wow Vabbè Consumo un botto Dove cazzo sono andate Loro sono andate lassù Quindi significa che la strada Per andare è lassù Invece ho quello di qua Vabbè vedi Questo che facciamo Gli rilasciamo raga No Ma come un guillo Stavo da sbagliata Ma come Vabbè Vabbè prendere il culo anche Avete visto la palla Alla dietro Io l'ho vista Vabbè Vabbè La sotto c'è una palla Vabbè Probabilmente La prenderemo dopo Eh no L'ho vista quella palla Dall'altro lato In mezzo ai container Si passa di qua Si fa il giro di là Sì 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 Dovrebbe essere semplice Recuperarla Ok Altri? No Questa è l'altra Questa è lì Allora va bene dai facciamo così vai c'è la cassa da scassare qua c'è la cassa da scassare e qua c'è la palla no no aspetta ho sbagliato la palla è qua e la palla una materia vitale va bene dovrebbe essere tipo quella che aumenta i punti vita di tutti ok ah qua si va un momento azione allora dicevo qua si va sul treno equilibr 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 atto ui ok Andiamo, andiamo, tranquilli, tranquilli. Allora, vediamo cosa è dentro. E' un tipo di disegni di fantasmini? Che vuol dire? Che ne so io? Oh. 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 Molami un attimo, cioè, scusa, come faccio ad andare a vedere se mi rimane vinghiata lì? E poi vanno avanti. Cosa era? Guarda! Allora! Ehi! Un bambino fantasma! Ci sono veramente... Ah! Ehi! 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 Un fantasma! Siamo a farlo fuori? No, 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 no. Magia, magia. Oh, no, no! Ehi! Ehi! Un fantasma qua, però... Un po' deboluccio abilità... Così. Ehi! 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 Non ti... questa cosa è inutile. Lo so, ma anche così. Oh... Cosa di... Rai! Rai! Sei ok? Sì. Grazie Cloud, tu ci salvai! Ho bisogno di trovare un'altra parte. Ok. Quindi se da qui non si passa... Dove si passa? Se dove dobbiamo andare non possiamo andare perché da dove dobbiamo andare non possiamo andare. Dove dobbiamo andare? Per andare dove dobbiamo andare. Non so se avete capito. Questa era l'idea. E' più velocità gli attacchi! Tizia ciccia. Che funziona così. Aia! Non ce l'ha fatta però. No! Nooo! Panculo! E quindi? E che facciamo? Prendiamo il treno? Nooo! Prendiamo il treno? Prendiamo la locomotiva attaccata. Che fai? Dai, andiamo! Avete fatto il biglietto? Dai, che c'è la biglietteratrice qua. Guardate il timbrallo che ci salva il controllore e c'è un casino. Ah, ok. Nooo! Credo che il treno è lì. Quindi qua... Ho predetto che adesso c'è un argano. Andiamo a vedere l'argano. Sai che c'è, no? Un altro tipo fuoco fatuo. Allora... Quello deve si allargano. Quindi... Come on! No, no, poi si allargano. Come on, un cacchio. Vai. Non funziona. Non c'è nulla. 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 Qualcuno potrebbe sbagliare con l'attività di potenza per riuscire. Sicuro, è la soluzione migliore quella. Questi disegni... Fantasmini. Come on. Una gran pozione, eh. Ah, ma qua vedete c'è... Può andare a prenderlo quella... No. Vabbè, come on. Eh, ma la porta è chiusa dall'interno. Come on. Maledizione. Ci può saltare? No. Di là, di là. Di là. Di là. Di là. Ok. Andiamo. Un'ombra nella control room. Va bene. Dall'interno che questa? Questa non è chiusa dall'interno. Questa è chiusa... Dal nostro lato. Un'ombra. 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 Accompagnante. Read it. Un'ombra. 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 Ma non agli attetti fisici Non ho capito Quindi Cloud te la fa sfacere Nuovo livello fantasma Quindi adesso questo Fondare giusto? Sì Questo è per te Tutti è per te Tutto è spaventato Ti stai facendo bene, certo? Bam Ok Vediamo cosa è dal lato giusto adesso Se Non si può andare, no? Ma aspetta un attimo Qua c'è Vedete Allora ci si può andare Qua è tutto scassato Ma io Boh Ma io magari si andava da dentro qua Lì ci sarebbe anche una porta Ma non so come fare ad arrivarci Credo che la soluzione sia dentro questa stanza Ma non la vedo Quindi chi se ne frega E fu così che Siamo persi un'arma della madonna Anche là vedete Non ci si può andare Non ci si può andare E' un'arma della madonna Perciò che c'è il bai Dove mi metto bagnato E' un fantasma Tantugno E' un fantasma Sì, si è cambiato proprio giusto. Se questo è immune a tutto, dove faccio un secco? Ma no, non lo stremo, giusto? Ci ho capito che è anche in quel combattimento, eh? Pro PM, va. Qua però possiamo sbloccarla, giusto? E qui invece andiamo dove c'era la cassa. Che era qua? C'è. Ah, cazzo. Miseria. Ho fatto malissimo, tra l'altro. Bene. Quindi, se qua adesso l'abbiamo aperto... Perché abbiamo aperto sta cosa, scusate? E ho aperto questa, ma per andare dove? Qua non c'è la corrente. Prendiamo la cartina. Andare di là... La porta è lì. Proviamo. Un momento, eh. Scusa. Se non ci siano altri fantasmi qua dentro... Qui? Eh no? Ma che... Ai, 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 ai. Qui? No, ma anche qua ci c'è un stati... No, ma di qua no, però. Aspetta che ho visto una roba... Mi piace qua. Eh! Ah no. Ti rompe, peccato. E allora... E' rotto. Io mi sono rotto tra un po'. Ok. Vediamo qua. Che rottura di palle. Sono sicuro che ho visto una porta sul l'altra parte di questo posto. Credo che ci sia un'altra parte. Lato opposto c'era una porta. Proviamo a fare il giro. Ma sul lato opposto... Non si passa. Non hai capito. E io come faccio ad andare dal lato opposto? Che qua è rotto. Cioè, non... Non si passa qua. Vedi? Cioè, ho capito cosa vuoi dire, ma... Non mi ricordo se si passi da questa parte... No, da sopra. No. Ma non credo. O si passa da sotto. Vediamo. Aspetta, però. Forse si. Le cortine risonanti. Questo cazzo di labirinto, cioè. Ah, possiamo passare da qua da sopra. Va bene. Da qui... E da qui. Vai, Claudio. E non si torna più indietro. Chi è quello? Ok, è molto questo problema. Ah, mia. Faccio sempre questa, raga. Perché voglio sbloccare sta arma. Posso me l'abbia presa la maestria, vabbè. Non importa. Allora. Noi siamo scesi da quella scala lì. No, proprio. No, no, non eravamo scesi da questa scala. Noi eravamo scesi che ci siamo portati giù dal container, giusto? Sì, 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 sì. Qua c'è una scala che sale per andare lì. Ma questa porta, non è che sia quella... Dall'altra parte? Forse, eh. Forse, forse, forse. Vediamo. È quella per andare a prendere... le robe. Vediamo. Mi sta di sì. Vabbè, qua ci sono le casse. Mi sa di sì. Perché qua noi non possiamo raggiungerlo in nessun modo, se non. E infatti. E infatti, dove è la cassa apropotente qua? Ok. La medaglia mogure. Questo casino per la medaglia mogure. Ok. Ho tutto rispetto per le medaglie mogure, ma... Mi sembra una gran cosa. Ah, qua ce n'è un altro. Ok, questi mille guile o guile vanno benissimo. Tra l'altro, adesso io potrei provare a salire qua ed entrare in questo posto. Vabbè. Apriamo? Apriamo questo. Mega pozione tutte e tre. Vabbè, intanto mille guile che... Abbiamo preso, ce li siamo già magnati anche di più. Cosa di fenice, sempre utile. Noi vi danno sta roba, probabilmente qua c'è un boss. Quindi, ragazzi, io vi saluto qui per il momento. Vi do appuntamento alla prossima. Lo so che magari questi video saranno un po' lunghi, però ragazzi, per una fatta si è un gioco dove fare i video lunghi, per forti. Quindi, grazie a tutti per essere stati con me. Ci vediamo alla prossima. Sotto in descrizione ci sono i link per il vario Telegram, Discord, eccetera. Ricordatevi, ragazzi, di condividere questo video sui vostri social network per aiutare il canale a crescere. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Siamo giunti al termine. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.